Quali sono i principali punti di forza dell'Italia nella gestione della BPCO? In cosa possiamo considerarci un modello positivo? L'Italia ha un sistema sanitario nazionale, le cure sono accessibili a tutti, questo è un grande punto di forza. È chiaro che affrontare poi questo aspetto su malattie come la BPCO, che è una malattia cronica e di grande prevalenza, determina problematiche legate, come si dice in questo periodo, a liste d'attesa nel fare magari gli esami diagnostici anche semplici come può essere una spirometria. Tuttavia io credo che la positività che noi dobbiamo mantenere è che comunque l'accesso per una diagnosi e un follow up di questa malattia è disponibile a tutti. Dall'altra parte emergono criticità come la disomogeneità nell'accesso alle cure sul territorio e percorsi di cura poco personalizzati. Quali interventi raccomanderebbe alle istituzioni per affrontare queste problematiche? Innanzitutto bisogna definire bene i percorsi in base al setting necessario, perché come dicevo prima BPCO è una malattia cronica delle vie respiratorie, una malattia ostruttiva, una malattia infiammatoria, per cui è una malattia che va seguita sempre, è una malattia che a un certo punto può, per cause svariate, in particolare molte volte e percentualmente più alta, cause infettive, va incontro a una riacutizzazione. Allora quello che bisogna fare è dividere bene i setting di intervento, sapere di avere una cura continua nella fase di cronicità o comunque di stabilità della malattia, che possono essere i centri per malattie croniche come la BPCO, ancora meglio se si potessero creare dei centri specifici degli ambulatori di secondo livello per la gestione del cronico, ma anche una alta competenza da parte del mondo respiratorio, del preumology, della gestione della riacutizzazione a livello ospedaliero. Allora questo è quello che bisogna raccomandare, cioè dividere i setting, ma nello stesso tempo saper affrontare ad alto livello tutte e due le fasi della malattia, la parte cronica e la parte acuta.